Il principe Harry ha parlato apertamente e onestamente delle difficoltà che ha dovuto affrontare e della terapia che ha avuto nel podcast di Dax Shepard, Armchair Expert tutto ciò che il principe Harry ha mai fatto farà mai fa notizia. A livello globale, lo sa, ci ha lottato, ma nel rilasciare un'intervista al podcast Armchair Expert sembra aver finalmente capito come usarlo a suo vantaggio, per il bene superiore. Sul podcast di Dax Shepard di cui non mi sono perso un episodio da tre anni ottieni l'esatto opposto di ogni intervista a celebrità che tu abbia mai sentito. Questa non è una promozione soffice, leggera e sfacciata di qualunque progetto stiano pubblicizzando, tirando fuori vecchi aneddoti stanchi e cliché su come il cast e la troupe sono diventati come una famiglia. Sul podcast di Dax, le persone diventano reali. Come dice il presentatore, a titolo di introduzione, sono infinitamente affascinato dalla confusione dell'essere umano e trovo che le persone che sono vulnerabili e oneste riguardo alle loro lotte e ai loro difetti siano incredibilmente sexy. Ti invito a unirti a me mentre esploro le storie di altre persone. Celebreremo, soprattutto, le sfide e le battute d'arresto che alla fine portano alla crescita e al miglioramento. Punto punto. Harry è abbastanza coraggioso da andare in questo spettacolo, dove non c'è nessun posto dove nascondersi, e parlare apertamente delle difficoltà che ha affrontato, della terapia che ha fatto, è semplicemente meraviglioso. Parlare di problemi di salute mentale li rende meno tabù e consente a coloro che li combattono di sapere che sono tutt'altro che soli. Chiunque si chieda se stia facendo storie per nulla, si picchia pensando che dovrebbero essere in grado di farcela perché gli altri stanno peggio, può ascoltare un principe letterale che ammette di trovare la vita difficile a volte e concedersi una pausa. Harry è una pubblicità fantastica per la terapia. Non solo perché gli attribuisce il merito di averlo aiutato così tanto, ma solo in tutto il suo modo. È rilassato, contento, a suo agio. È consapevole della realtà della sua vita ed è determinato a mantenere tutto ciò che ha imparato e sperimentato in prima linea nella sua mente mentre fa da genitore ai suoi figli.